Questa lezione è un estratto di una lezione integrale dedicata alla passionalità e all'amore nell'arte. Se siete interessati all'intera lezione, cliccate nel primo link in descrizione per richiederla. Arriviamo poi a quattro opere straordinarie. Sono rappresentate ben quattro opere legate all'amore di Giove. Queste che vedete qui è Ganymede a sinistra e L'Aquila, mentre quella che vedete qui a destra è Io. Ora ve la mostro. Allora, la prima coppia che considereremo appunto è proprio questa e si trovano a Vienna queste due opere. Sono della stessa misura e quindi si pensa forse dovessero essere messe a lato o di una porta o di qualcosa. Insomma, dovevano stare sicuramente in Pandano. Che cosa c'è? Qui il re degli dèi, diciamo il sovrano di tutti gli dèi, cosa fa? Viene per rapire Ganymede. Ganymede chi è? Ganymede è un pastorello. Si capisce che era un pastore perché, vedete il correggio, ce lo dimostra con il cane sotto. Vedete il cane quasi si sta guardando in alto. Il pastorello che verrà portato sull'Olimpo diventerà poi il coppiere degli dèi. Guardate come si lascia, non sa volare, ma si lascia, si affida a Giove che lo sta trasportando in alto. E quindi questo è un amore corrisposto che verrà appunto in questo caso portato nell'Olimpo. Ma si trovavano questi considerati nella collezione di Rodolfo II di Praga, no? Guardate invece quest'altra donna. Che cosa è? Qui è un adulterio ancora una volta e Giove questa volta, sapete in cosa si trasforma? Si trasforma in una nubola di fumo. Perché lo sapete? Lui vuol nascondere, dice, a sua moglie, a Giunone, un po' tutte queste scappatelle. Allora che cosa dice la tradizione? Dice che lui riesce a calare un velo di oscurità e come lo rappresenta il correggio? Vedete ci rappresenta questo velo d'oscurità come una nube, pensa e diventa, prende forma. Guardate qui c'è il volto, la nube vedete si sta trasformando in volto e lei, io, è completamente questa fanciulla, completamente abbandonata. Vedete? Ci dice in realtà Ovidio che questa fanciulla fugge via impaurita, no? Invece per la paura che aveva di Giove. Invece guardate che cosa fa il correggio. Ci fa vedere che invece lei ha proprio un piacere di questa presenza di Giove, anche se così evanescente. Vedete? Anche lei lo sta toccando, lui la sta abbracciando e lei si sta proprio abbandonando indietro a quest'amore. Vedete? Ho un piede sollevato e poi rivolge la testa indietro, no? In simbolo proprio di escasi. Veniamo poi sempre del correggio a quest'altri due amori di Giove. Quest'altri due, vedete, hanno una forma non stretta e lunga, ma hanno una forma orizzontale. Sono alti esattamente come gli altri due, però sono molto più allungati. E qui che cosa trovate? Trovate Danae. Danae, lo sapete, anche lei è amata da Giove. Il padre, tra l'altro, di Danae è il re di Argo. Lui era stato avvertito da un oracono che il figlio di Danae, di sua figlia, lo avrebbe ucciso. E allora che cosa fa? Lui imprigiona questa fanciulla, imprigiona la figlia in una torre. Correggio ci fa capire che qui siamo in una torre alta. Guardate, si vede un'apertura, si vede un letto a baldacchino e guardate, dalla finestra si vede che siamo molto in alto. Perché sullo sfondo si nota il paesaggio, no? E si vede le abitazioni sotto, un'altra torre molto più bassa. Cosa fa? Giove decise di sedurre questa Danae e come lo fa? Questa volta non si trasforma in acuila, non si trasforma in nube, ma si trasforma in una pioggia d'oro. Una pioggia d'oro che è raffigurata con questa nuvola dorata che abbaglia anche la tenda e piano piano, vedete, sta scendendo giù. E qui è particolarissimo perché qui c'è Amore che sta aiutando, vedete l'amorino, che sta aiutando, sta scoprendo, vedete, il corpo di questa Danae proprio perché lei possa incamerare questa pioggia d'oro, mentre lei è intenta a guardare quello che sta succedendo. E interessantissimo è questa scena che vedete in basso a destra, raffigura appunto questi due amorini che stanno scegliendo anche questi dardi perché ci sono quelli che fanno innamorare e quelli invece che fanno odiare. Infatti loro nella ferra i traccelli hanno di vari colori. Il figlio di Danae e Giove è Perseo e non a caso poi Perseo l'oracolo si avvera perché cosa succede? Perseo ucciderà con un disco il padre di Danae, un disco stava facendo il lancio del disco, questi giochi e a causa di un forte vento il disco va proprio a uccidere, a colpire il padre, come aveva detto l'oracolo. E arriviamo al quarto dei dipinti con Leda e il Cigno, questo si trova a Berlino, è una scena particolare e qui mentre negli altri dipinti si parlava di passione, diciamo i primi approcci, i vari approcci diciamo o della divinità che erano in estra, diverse fanciulle, qui è rappresentato proprio l'atto amoroso come vi ho fatto vedere nella scultura della Mannati e qui è interessante perché come in una sequenza filmica che cosa troviamo? Troviamo la divinità, vedete, che prima incontra il Cigno che sarebbe Giove questa volta trasformato in Cigno per sedurre Leda e lei, vedete, quasi insomma mette le mani avanti come per dire no no non mi interessa, invece poi evidentemente cambia idea perché qui la vediamo, vedete che ha le gambe allargate, il Cigno che così sinuoso le si avventa anche al collo e lei molto soddisfatta, qui si vede la sequenza filmica successiva in cui lei saluta, guarda verso l'alto, vedete il Cigno Giove che se ne torna via e le ancelle che la aiutano a rivestirti, quindi qui si è proprio compiuto un atto amoroso e guardate che cosa diventa la Danae di Clint, la Danae che vi ho fatto vedere prima Grazie a tutti!